Noi abbiamo tre libri scritti da un soldato di mentone Allora noi abbiamo la cultura che ha individuato Giambattista Rico Noi non abbiamo né l'arbore di tutti né l'arbore dell'emozione e quindi noi facciamo perché siamo senza andare a speculare Gli altri invece hanno detto da noi che sono Federico II e sono sovventuti Non è ancora oggi, noi facciamo la mentira La storia dei doppi e la colabinazione Eh no no fidati Ho trovato dei sommetti di San Dommaso a fine che fa impazzire Italiano proprio, pure Grazie a tutti 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 Grazie a tutti